Il rosario nasce con il nome di Salterio Mariano, in pratica durante la prima stagione monastica i monaci di San Benedetto in particolare, parliamo dell'Occidente latino, si dedicavano alla recita dei salmi che sono 150. Poi nel XIII secolo si assiste ad un ingresso nei monasteri dei cosiddetti monaci conversi. Chi erano i monaci conversi? Erano quelli analfabeti, per dirla ex abrupto, analfabeti, non sapevano né leggere né scrivere, quindi non erano in grado né di leggere né di cantare i salmi se non qualcuno che imparavano a memoria. Ed era un problema perché la vita monastica si regge sulla preghiera corale. Ecco che allora fu inventata questa preghiera chiamata Salterio Mariano che infatti prevede tra dolorosi, gloriosi e gaudiosi 150 Ave Maria con le quali ai monaci non letterati veniva consentito di pregare sostituendo il Salterio biblico col Salterio Mariano. Guardate che ancora oggi qualcosa di simile accade. Mi ricordo qualche anno fa parlai con un sacerdote che aveva problemi di vista e posa ai superiori la questione seria che lui aveva pregato per tutta la vita all'edulge, una cosa che penso anche io se dovessi diventare vecchio. Cioè lui per tutta la vita, come sto facendo io, sono prete da vent'anni, tutta la vita mi sta trascorrendo a recitare ogni giorno le cinque ore canoniche. Ufficio, lodi, ora media, vespri e compieta. Ufficio, lodi, ora media, vespri e compieta. Ufficio, lodi, ora media, vespri e compieta. Ogni giorno. Cinque ore canoniche. Mi immagino il momento in cui io non potessi più vederci, poniamo, o sto male. Ecco, allora questo confratello anziano mi raccontava che pose la questione ai superiori e come accadeva nel XIII secolo fu detto lui di dedicarsi, visto che non poteva leggere i salmi, non poteva leggere i salmi, di dedicarsi alla preghiera, alla preghiera, all'assalterio angelico, al salterio angelico. Ecco, bisogna aggiungere però che nel frattempo si è sviluppata una, diciamo, una linea interpretativa sul rosario che si è accreditata moltissimo, secondo la quale, come anche conferma il Papa San Pio V nella bolla apostolica con Sueverunt, sarebbe stato, anzi noi lasciamo stare il condizionale, è stato San Domenico di Guzman, fondatore dell'Ordine dei Predicatori, che in un momento di sconforto nel quale non riusciva più a convertire gli eretici albigesi, le apparve la Madonna a Tolosa, a Tolosa, in Francia, e la Madonna gli disse ti consegno quest'arma. Interessante come la Madonna ha chiamato il rosario. San Luigi Maria Vignone da Bonforte nel segreto del rosario racconta di questo episodio, ti consegno la corona e ti consegno l'arma. Nasce poi il bisogno di, siccome cominciava a diventare difficile conteggiare le 150 Ave Maria con le dita, nasce poco per volta anche la corona del rosario che diventa un vero e proprio sacramentale, anche se, e concludo, bisogna tenere presente che secondo la tradizione domenicana stessa, che è stata però posteriore a San Domenico, in realtà diffusore, propagatore del rosario non sarebbe stato San Domenico ma il beato Alano della Rupe, Alain in francese, che è solo beato ma che fu sposo della Madonna, la Madonna gli donò l'anello, una vita molto bella, prima o poi la racconterò, e le fonti dicono che è stato lui, questo Domenicano belga, credo che fosse Fiammingo, che ha diffuso la corona del rosario. Una volta diffusa questa pratica, la pratica è stata immediatamente, immediatamente nel XIII secolo accolta non solo dai monaci conversi, ma poco per volta è arrivata anche al popolo di Dio che se ne è innamorato ancora di più dei monaci conversi, fino a esplodere nel XVI secolo, quando di fronte anzitutto all'affronto di Lutero da nord e poi della invasione islamica da est, i papi del tempo da Leone X a San Pio V proposero come rimedio di tutti i mali la recita del Santo Rosario ed effettivamente i frutti si raccolsero. Lutero fu fronteggiato e venne fuori il concilio di Trento, all'Epanto, proprio grazie a San Pio V che armò i soldati della corona del rosario, i musulmani, che erano molto più numerosi, furono respinti. Ecco, un'altra quindi, il XIII secolo, XVI secolo, un'altra grande stagione di rilancio del rosario è stato verso la seconda metà del XIX secolo, grazie a figure particolari, in particolare come Leone XIII, papa del rosario, questo è indiscutibile, anche lui è un papa del rosario, il beato Bartolo Longo che nel sud Italia costruisce il santuario di Pompei rilanciando quindi la devozione del rosario e a Torino San Giovanni Bosco che inculca moltissimo l'amore alla recita del Santo Rosario. Tutti i santi poi nel corso dei secoli hanno attribuito alla corona del rosario grandi miracoli e così alla fin fine, mi pare aver detto più o meno le cose come stanno, il rosario si è imposto dopo la messa come la pratica di pietà popolare più diffusa in assoluto nel mondo cattolico. Pronto?